L'amatissima conduttrice sta per fare un grande cambiamento. Un cambio di scena che potrebbe scuotere il mondo della tv. Le voci circolano intense e la curiosità aumenta. Chi sarà mai questa stella pronta a brillare in una nuova rete? Le anticipazioni ci raccontano di un trasferimento che potrebbe rimescolare le carte in tavola, portando nuova energia e sfide inaspettate. Scopriamo cosa sta succedendo. Torna in Rai? L'indiscrezione corre velocissima. Nonostante i corridoi della televisione di Stato sembrassero inizialmente chiusi a questa possibilità, le novità non tardano ad arrivare. Una famosa conduttrice, nota per il suo legame indissolubile con il pubblico e per un carisma inconfondibile, sembra pronta a varcare una nuova soglia. Sì, stiamo parlando di Barbara D'Urso. La quale, dopo un periodo di lontananza dalle scene televisive, durante il quale ha incantato i teatri, è ora pronta per un ritorno trionfale. Dopo aver lasciato un segno indelebile in Mediaset, Barbara sembra pronta per una nuova avventura in Rai. Precisamente su Rai 1. Un'opportunità che si profila non solo come un ritorno, ma come una vera e propria sfida, dato che la vedrebbe confrontarsi con un'altra grande della TV, Maria De Filippi. La decisione di Rai. Condurrà il grande show. L'entusiasmo è tangibile e le aspettative sono alte. La D'Urso, con la sua energia e la sua capacità di connettersi con il pubblico, potrebbe davvero portare una ventata di freschezza e novità. Il progetto in questione, una trasmissione del sabato sera che promette di essere un mix di emozioni e sorprese. Un po' sullo stile di, caramba che sorpresa. Tuttavia, non mancano le voci che suggeriscono come questo possa essere più un sogno che una realtà imminente. Il futuro è ancora incerto. E si attendono conferme ufficiali. Barbara D'Urso in Rai. La notizia fa già discutere e alimenta i dibattiti tra appassionati e critici. La possibilità di vederla alla guida di un grande show serale accende la fantasia e le speculazioni. In un mondo televisivo che non smette mai di evolversi e sorprendere. La D'Urso potrebbe davvero scrivere un nuovo capitolo della sua già brillante carriera. Cosa ci riserverà il futuro? La risposta potrebbe arrivare più presto di quanto pensiamo. Magari già nella prossima apparizione televisiva della conduttrice. Restiamo sintonizzati e pronti a scoprire insieme questo nuovo entusiasmante viaggio televisivo. Grazie a tutti.